Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo della carenza di educatori in Friuli, Venezia e Giulia. Lo faremo parlando invece del lavoro che l'Università di Trieste sta facendo nel formare educatori. In questa prima parte parliamo di canottaggio. E devo dire la verità che era un po' dicevo tra me e me quando cominceremo a parlare di canottaggio perché era un po' che non ne parlavamo. Questa più o meno è una parte della stagione in cui di solito lo facciamo. E di fatti quest'oggi lo facciamo assieme a Sofia Secoli e a Spartaco Barbo che è il capo allenatore under 23 di canottaggio della Federazione Italiana Canottaggio. Invece Spartaco presenta Sofia il suo palmarè più recente. Sofia è una ragazza, un'atleta del circolo canottaggio di Saturnia. Quest'anno ha avuto il suo esploi perché ha partecipato al campionato europeo di Bled Assoluto dove ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella barca regina del canottaggio che è l'otto femminile. La scorsa settimana ha conquistato una maglia da titolare per la nazionale under 23 e ha aggreggiato nel 4 con appunto under 23 in terra bulgara dove ha conquistato un ottimo quarto posto. E questo le ha valso e anche le gare che ha fatto durante la stagione la convocazione da parte del direttore tecnico Franco Cattaneo per il prossimo raduno olimpico che porterà la squadra italiana assoluta alla partecipazione al campionato del mondo di Belgrado che sarà a fine settembre dove ci si giocherà le carte olimpiche. Insomma, come dicono quelli che sono soddisfazioni? Sicuramente lo sono anche perché soprattutto per l'europeo totalmente inaspettato. Per me chiaramente ogni atleta si allena per un fine simile, il più alto possibile però quest'anno è stata una bella soddisfazione, un po' di fatica ripagata, devo essere sincera. Tu da quanto fai Canottaneo? Allora io ho iniziato a settembre del 2017 più o meno in un'altra società però nella ginnastica triestina seguendo mio fratello che già lo faceva da diversi anni poi per varie motivazioni siamo entrambi andati al Saturnia e da lì ininterrottamente fino ad oggi. Si può dire l'età, no? Sì, assolutamente. A questa età si può dire, 22? Sì, 22. Se faccio bene i calcoli 17, quindi hai cominciato a 16 anni? Sì, più o meno direi di sì. È un'età giusta per incominciare o leggermente più tardi rispetto a quello perlomeno di qui? Sofia è un esempio strano in quanto il canottaggio si può cominciare, si inizia ormai ad oggi intorno ai 12 anni per fare tutta la carriera nell'attività giovanile per acquisire le competenze richieste mentre Sofia si è dimostrata brava nonostante abbia cominciato il canottaggio più avanti in età ma venendo da altre esperienze sportive sicuramente questo gli ha permesso di apprendere meglio e in meno tempo possibile anche il gesto specifico. Adesso cominciano le domande un po' tipiche che prima o dopo bisogna farle, io direi tiriamocene fuori subito così poi non ci pensiamo. Che cosa ti ha spinto a questo sport piuttosto che ad altri? È una domanda particolare perché non c'è una vera risposta forse. Io ho fatto otto anni di nuoto sincronizzato prima, non c'entra assolutamente nulla, sì mi era molto piaciuto ma appunto non ha nessun nesso con il canottaggio. L'ho fatto perché appunto non sapevo che cosa fare una volta smesso quello sport lì e sicuramente ne volevo fare un altro. Avevo mio fratello in casa che andava giù ogni giorno due volte al giorno e mi sono accodata, mi hanno detto di provare, ho la caratteristica di essere abbastanza alta e questo può aiutare diciamo per una questione di leve. Dunque mi hanno detto di provare e da lì poi mi sono trovata bene, mi è piaciuta la squadra. Insomma è uno sport sicuramente completo. È nata così insomma. Sì, sì, non c'è una spinta. Ma anche nel caso, insomma è uno sport molto faticoso, questo insomma l'abbiamo detto più volte e gli allenamenti in genere si fanno appunto in periodo scolastico prima di andare a scuola. Sì, esatto. Io li ho fatti, sì, io ho fatto il liceo classico. Dove? Al Petrarca. Vabbè. Sì, è stata tosto sicuramente perché era difficile conciliare le due cose perché sicuramente richiede molte ore di studio e il canotaggio dall'altra parte richiede molte ore di allenamento per forza di cose. Ho la fortuna di abitare molto vicino al circolo quindi questo mi avvantaggiava un po' rispetto a compagni che anche solo per i genitori dovevano farsi portare alle 5 del mattino è più impegnativo, potevo scendere a piedi diciamo almeno questo, però sì è stato difficile ma nel momento in cui inizi a vedere qualche risultato hai voglia di continuare. E i risultati hai incominciato a vederli diciamo così anche già in periodo scolastico? Perché io faccio sempre questa domanda e so anche di ripetermi ma delle volte la faccio anche proprio per curiosità perché spero sempre che ci siano delle risposte. Nel senso, questa è una domanda che faccio a tutte e due. In questo paese si sa che il rapporto fra scuola e sport è un rapporto abbastanza particolare, deve essere costruito, deve essere coltivato di volta in volta eccetera e molto spesso appunto c'è un atteggiamento un po' ambivalente va nei confronti di uno studente che fa dello sport, nel senso che logicamente se dopo le cose vanno bene allora viene giustamente, come dire, ciò viene sottolineato anche dalla scuola eccetera. è cambiato qualche cosa, sta cambiando qualche cosa oppure ancora ferma 40 anni fa? Ma allora, io sinceramente non ho avuto un'esperienza troppo positiva a tal proposito. Non tutti i professori mi sono sempre venuti incontro, anzi, perché chiaramente è giusto pretendere che al primo posto ci sia la scuola, io sono d'accordo, però questo non significa che non possano essere messi non possano essere messi più o meno allo stesso piano, comunque è portarli avanti assieme. Nel mio caso non ho avuto grandissimi risultati mentre facevo il liceo, perché ho vinto comunque i campionati italiani che insomma non è di sicuro niente, però a livello internazionale no. ma ho moltissimi compagni invece che li hanno avuti, tra l'altro adesso ci sono tre ragazze che questo weekend saranno al campionato del mondo under 19 a Parigi e loro sono il perfetto esempio di maglia azzurra mentre sono tutte tutte da liceo e altre mie compagne coetane che invece hanno avuto la fortuna e la bravura di avere risultati prima di me. Quindi è assolutamente fattibile e se sta cambiando secondo me sì in base alla scuola, in base un po' all'impronta e a quanto sono giovani professori. Sembra scontato ma aiuta parecchio in realtà. Questo non è male come in cauda veneno, non è male. Decisamente. Allora questo rapporto fra scuola e sport in genere è cambiato, sta cambiando pian pianino? Io parlo per la mia esperienza personale, io ho anche insegnato a scuola e devo dire che certe volte ho incontrato piccole difficoltà con i colleghi perché non capivano l'impegno profuso e l'impegno richiesto per fare dello sport ad alto livello, indifferente che sia canottaggio o qualsiasi altra disciplina. Però io penso sempre che uno sportivo e un ragazzo che fa sport sicuramente sarà un adulto che ha delle mire, che ha un modo di pensare, un modo di riuscire a concentrarsi a lunga gettata che fa sicuramente bene alla società intera e per questo io credo che soprattutto in questi ultimi periodi noi almeno a Saturni abbiamo un'ottima collaborazione con tutti gli istituti con cui collaboriamo e non ultimo abbiamo vinto l'istituto che noi abbiamo preparato, l'equipaggio abbiamo preparato per la fase nazionale scolastica, ha vinto la fase nazionale e questo è stato di grande soddisfazione per gli insegnanti, per la scuola e naturalmente per gli atleti. Di che istituto si tratta? Altipiano. Ah ok, quindi medie? Sì, sì medie, abbiamo molti progetti in essere con le medie, i ragazzi insegnanti, grazie agli insegnanti, i colleghi li portano in società, conoscono la società, conoscono lo sport, conoscono l'ambiente e da questo si appassionano e devo dire che il rapporto con la scuola è ottimo. Allora, speriamo che continui così perché insomma poi è anche vero che basta leggere le biografie degli sportivi più noti e si capisce che in altri paesi logicamente la scuola ha dato loro una mano, come, apro e chiudo parentesi, è anche vero che specialmente in ambiente anglosassone se si leggono le biografie degli attori più famosi si vede che loro hanno incominciato a fare teatro a scuola perché lì il teatro si fa anche mettendo in scena, non soltanto, ma questo come diceva il barman di Irma la Dolce è un altro discorso. Parliamo invece, facciamo un po' il punto sui risultati di questa prima parte, poi non so se anche il canottaggio va a stagioni e se le stagioni poi sono quelle, che so, dell'anno scolastico o… Allora, il canottaggio come essendo una disciplina legata al mare, alle acque, si gareggia prettamente nella stagione estiva, prima avarile, fino adesso io parlo per i risultati del canottaggio regionale, abbiamo avuto degli ottimi risultati perché si sono svolti i campionati europei Under-19 dove ci sono stati, hanno vinto due ragazze, hanno vinto il campionato Under-19, una ragazza della Nettuno e una del circolo di Saturnia, Giorgia Gregrutti, un ragazzo di San Giorgio di Nogaro, ha vinto l'Europeo e abbiamo avuto parecchi ragazzi che sono stati impegnati in varie manifestazioni internazionali, Coppa del Mondo, regata internazionale, Sofia anche lei è stata impegnata, regata in nazionale. Abbiamo gareggiato la scorsa settimana, come le dicevo, al Mondiale Under-23 dove gli atleti regionali erano ben 11, di cui 7 di circa la città di Saturnia, tra cui Sofia e abbiamo avuto la felicità di condividere due vittorie di campionati del mondo, appunto con Maria Elena Zerboni che è la prima atleta alla mia sinistra che si è laureata per la quarta volta campionista del mondo, io una specialità nuova per lei perché gli ultimi 3 anni assieme alla campagna di barca Samantha Premel, l'equipaggio interamente del Saturnia avevano vinto 3 campionati del mondo e 2 europei, stabilendo 2 record del mondo e quest'anno le due ragazze hanno deciso di prendere e intraprendere una strada diversa, una Mary ha continuato nella categoria pesi leggeri mentre Samantha ha deciso di provare la strada nella categoria assoluta e anche lei ha guadagnato un'ottima finale al campionato del mondo a capovuga del 4 di coppia, c'erano Filippo Wiesenfeld, il nostro timoniere per eccellenza, ormai sono 5 campionati del mondo che Filippo timona un equipaggio azzurro ai mondiali, eventi internazionali e ha vinto per la seconda volta al mondiale, nel 5 volte che ha partecipato ai mondiali ha portato a casa 3 medaglie e 2 quarti posti ed è uno dei ragazzi più titolati oggi come oggi nel panorama remiero italiano come timoniere, avevamo Benedetta Paco, Ilaria Macchi, tantissimi, non vorrei dimenticare qualcuno perché come dicevo 11 sono tanti e a testimonianza del fatto che il canottaggio in regione funziona molto bene, le società funzionano molto bene da Grado a Lignano a San Giorgio di Nogaro a Muggia, a Polino di Muggia e alle società cittadine e non voglio dimenticare Ilaria Corazza di Monfalcone che è arrivata a seconda nel singolo Pesi Leggeri al campionato del mondo, dunque anche per lei un grandissimo risultato, adesso in questo momento abbiamo 4 ragazzi impegnati all'università in Cina tra cui Gustavo Ferrio, Mary Zerboni, è stato ospite parecchie volte qui da lei, Mary Zerboni, Ilaria Corazza e Gergolet della Canottieri Timavo, è un'avventura che è partita proprio diciamo come un'avventura perché devono imbarcarsi lunedì e domenica mi chiamano e mi dice Sparto guarda devi fare fare il tampone velocemente alla Zerboni perché sono risultati i tre ragazzi positivi al Covid prima di imbarcarsi per la Cina perché la Cina è ancora l'unico, uno dei pochissimi paesi al mondo che richiede il tampone prima di partire e Mary di corse in fretta e furia è partita, ha preso l'ultimo aereo disponibile e sono arrivati in Cina ieri, sono contenti, nel villaggio olimpico bellissimo, una bellissima esperienza, è veramente un'olimpiade in miniatura ed è da consigliare a tutti gli atleti di poter partecipare. Sofia che cosa significa, qual è la differenza, questa è una cosa che io non facendo sport non riesco a capirla, è una mia deficienza mi rendo conto, però per esempio uno è più portato per esempio alle gare di canottaggio di squadra piuttosto che da solo, come funziona da questo, uno lo scopre provando, è logico, ma c'è questa sorta di differenza o fondamentalmente non c'è? Secondo me c'è questa differenza, si tratta innanzitutto tantissimo di carattere, c'è chi è propenso e si trova proprio meglio a lavorare da solo, già durante gli allenamenti, durante l'inverno, da solo si parla ovviamente del singolo e il gruppo può essere da barche doppie a ovviamente fino ad arrivare all'otto, secondo me per fare un percorso in singolo bisogna avere qualcosa in effetti, perché per me che tendenzialmente non sono un tipo di persona del genere, mi risulta molto difficile l'idea di allenarmi molto da solo, ovviamente poi comunque a parte i rari casi sei all'interno di una squadra, quindi gli allenamenti a terra non sei solo, in barca sei solo nella tua, ma hai a fianco altre 5-6 barche, quindi non è proprio il fatto di essere isolati, però sai che qualsiasi tipo di velocità, di risultato fai è merito tuo e tuo soltanto, che può essere ovviamente un grandissimo pregio, ma anche un peso, per cui secondo me il carattere fa molto e la testa. Quindi è una questione anche se non parecchio di carattere personale. Sì, secondo me, della testa, di cosa si ha voglia di fare, come ci si pone all'allenamento, poi non è detto che una persona che predilige comunque una barca multipla, poi non riesca comunque bene anche nel singolo. E lì l'allenatore ha un, o comunque la società ha un ruolo, cioè è la società che può, adesso uso i termini, che può accorgersi che un ragazzo o una ragazza è meglio che faccia da solo, come funziona da quel punto di vista? È un ruolo che spetta all'allenatore, questo al tecnico, capire, conoscere l'atleta e cercare di indirizzarlo per meglio, sì, che lui riesca a esprimere le sue migliori capacità. Come diceva Sofia, è sempre una questione di attenzione che l'atleta ha verso, o il piacere che l'atleta ha, verso una specialità o l'altra e poi anche ci sono delle caratteristiche, oltre che appunto a livello di mente, di testa, di approccio all'allenamento, ma proprio anche delle caratteristiche della velocità della contrazione muscolare, della tipologia, di proprio quelle che sono le caratteristiche fisiologiche che ogni atleta ha. Noi intanto possiamo magari far scorrere, mentre parliamo, queste immagini che si riferiscono ad una gara svolta sì, la scorsa settimana. Ah, proprio ok. La finale del 4 di coppia pesi leggeri, in cui al numero 2, ovvero la seconda da davanti, se così possiamo dire, c'era Maria Elena Zerboni, ragazza ovviamente del Saturni, a mia compagna di squadra, e coetanea, ecco, che in questo caso vinceva appunto la finale del 4 di coppia. Ecco, in questo, anche qua faccio una domanda un po', queste sono condizioni ottimali di gara? Cioè col tempo fondamentalmente, mi pare di capire... Erano, sì, buone, perché c'era un leggero favore, l'acqua la si può vedere leggermente mossa, ma non è assolutamente fastidiosa, perché l'onda è bassissima, quasi impercettibile, e il leggero favore chiaramente aiuta la barca ad essere un po' più veloce, quindi riduce il tempo della gara stessa, per cui è anche un po' più facile ogni singola parata, essendo più veloce e leggermente meno pesante, proprio per l'atleta. Qual è la condizione meteo più fastidiosa, poi anche questo immagino che dipenda, più fastidiosa, la pioggia, il vento, oppure in certi casi, non so, quando piove sì, sigareggia uguale, non sigareggia, mezzo strangolini. Beh, secondo me la più fastidiosa in assoluto è il vento, perché intanto non è quasi mai sempre da una stessa direzione, ma cambia leggermente, anche se qua a Trieste ne abbiamo la prova più palese, infatti il vento ci mette parecchio il bastone tra le ruote per gli allenamenti. Ma questo è un vantaggio anche di tutto rispetto, non mi pare di capire, è quasi una barca di vantaggio. Sì, è quasi una barca luce. Ok, hai finito già, nel momento in cui ho detto una cosa sensata, hai finito. Quindi è il vento fondamentalmente. Sì, il vento dà fastidio perché dà fastidio sulle pale, crea onde quasi sempre, quindi alza l'acqua, la palla può sbattere sull'acqua e se sbatte sull'acqua e per caso va sotto si pianta la barca, chiaramente. Ho visto che tutte quante avevano gli occhiali da sole o comunque è il caso di metterli sempre, no? Sì. Sì, è molto consigliato. C'è chi non li usa o magari preferisce un frontino o qualcosa del genere, ma secondo me sono indispensabili. Senti, ti faccio ancora una domanda, riguarda, anche qui, la faccio sempre da non sportivo. Uno incomincia a fare un'attività sportiva per gioco, per curiosità, insomma per così. Quando scopre, diciamo così, anche il momento agonistico dell'attività, cambia qualche cosa? Io questo, ripeto, non avendo mai praticato sport, non è qualcosa che riesco a capire, nel senso cosa succede? E l'allenatore, parliamo magari, nel caso tuo dovremmo parlare più di nuoto sincronizzato, anche là, c'è qualcuno che ti viene a dire, senti guarda che vedo che stai dando buoni risultati, eccetera, che ne dici di passare, come funziona? Ma allora, nel nuoto sincronizzato non ho moltissimo da dire perché oltre a essere piccola non la facevo mai a livello agonistico, quindi ero lì borderline, diciamo. Mentre nel canottaggio, secondo me, come qualsiasi altro sport, appunto, secondo me il primo campanello è l'allenatore che inizia a trattarti in un modo leggermente diverso perché chiaramente vede del potenziale e quindi cerca di fartelo tirare fuori, sport che poi potrà confermare e nel momento in cui succede questo poi mano a mano, secondo me, salgono le aspettative sia dell'allenatore ma sia dell'atleta stesso, inizia a aver voglia di vedere dei risultati che sa di poter raggiungere. E però immagino che poi cambi anche a casa, è uno scatto, è un livello differente? Sì, ma io credo che non sia tanto l'allenatore, non sia tanto l'ambiente, che sono importantissimi, però quello che scatta dentro la testa del ragazzo o della ragazza, che capisce di poter esprimere un proprio potenziale in una disciplina sportiva. Ma si è dato il caso qualche volta di qualcuno che abbia detto no? Nel senso di dire, ma guarda, io per mio carattere magari non sono, non mi interessa, preferisco continuare a frequentare la, 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 però giusto per, per divertirmi, per cose. È successo ed è comune, succede spesso perché l'agonismo richiede come tutte le cose un certo tipo di predisposizione mentale, un investimento di tempo, delle energie che magari non tutti sono disposti a fare, sono piuttosto propensi a dedicare il proprio tempo in altre cose ed è normale questo. Infatti quando dicono, parlano del canotaggio, ah ma tu fai uno sport di secondo livello, di doppiare uno sport povero, io non credo che sia povero, io credo che sia ogni sport ha la sua ricchezza, ha la sua ricchezza, l'ambiente in cui vive, quello che forma, quello come vengono sui ragazzi, l'importante è che i ragazzi trovano, come ho detto prima, soddisfazione in quello che fanno. Io rimango anche abbastanza basito da chi ragiona in questo modo, qual è uno sport ricco, calcio solo perché lo si vede. Bravo, la visibilità, la visibilità conta molto. Dovremmo essere oltre questo tipo di… Non è così, al giorno d'oggi lei mi insegna che la visibilità conta tantissimo, sì, Trieste è una città che ha sempre fornito grandi sportivi, in particolare nel canottaggio, se io le dico in una città come la nostra ci sono 7 società di canottaggio, di cui quest'anno abbiamo avuto credo ormai siamo a 15 maglie azzurre, vuol dire che insomma è uno sport che non è minore, è uno sport importante nella visione generale di tutte le discipline. C'è ancora questo discorso… Sì, molto, molto. E colgo l'occasione per ringraziarvi perché questa per noi è per il canottaggio in generale regionale, cittadino, è una gran vetrina e vi ringrazio dell'attenzione che è dedicata a noi. Cioè, voglio dire, anche poi di fronte a certi risultati, ma anche se c'è… poi c'è comunque l'impegno e l'amore per lo sport, dovrebbero andare persino oltre questo tipo di… ogni tanto la gente mi lascia sempre perplessa per dire la verità. Allora, questo è il momento anche in cui, che ne so, le società raccolgono, come posso dire nuove adesioni, eccetera, o non c'è un momento in cui… No, tutti i 12 mesi c'è un reclutamento, in estate ci sono i corsi di avviamento e l'accantaggio e tutte le società cittadine e regionali danno un'ottima offerta in base alle loro potenzialità, alle proprie caratteristiche, alle proprie dimensioni, alle proprie capacità anche del personale che possono dedicare a questo reclutamento, però è che 12 mesi durano i reclutamenti, come ne dicevo prima con la scuola c'è un'ottima sinergia, dunque chi vuole iniziare a fare il reclutamento può venire sempre. Ecco, diciamo dal punto che uno gli prenda, diciamo, mi incuriosisce, vieni in sede, vede un po', si ambienta, capisce come funziona tutto. Sì, sì, questo… beh, come le dicevo, già le raccontavo l'altra volta, signor Umberto, la tipicità del reclutamento… Non mi dia del lei, per l'amor di Dio, sono le società, ma società intendo per casa, perché ogni club è proprietario del proprio edificio, dunque quando vai in canottiera, perché il canottiere dice vado in canottiera e non è, intendo, vestire la canottiera, non solo, ma è quello di andare proprio nel stabile che è casa e diventa una seconda casa, è un punto di aggregazione importantissimo, dove appunto uno varca il cancello di qualsiasi club cittadino e si accorge di dire, ma questa è una realtà completamente diversa da come mi aspettavo, perché ci sono persone di tutta l'età, dai nove anni ai 99, c'è chi pratica lo sport, chi pratica il canottaggio, chi pratica la palestra, chi si dedica a prendere il sole, chi gioca a carte e chi solamente è lì per socializzare. Dunque è un punto di incontro che al giorno d'oggi credo sia veramente uno… può essere un valore aggiunto per il nostro sport, quello di dare ai giovani, ma a chiunque, un punto di riferimento. E tu, Sofia, in canottiera cosa… se dice così, no? Sì. Adesso detta così, in canottiera, in canottiera cosa trovi appunto? Ma sì, tutto quello che ha appena elencato è assolutamente lì, poi io a dire il vero ho potuto vivere un po' anche dall'altra parte, diciamo, non dico da social, ma quasi, perché il circolo canottieri Saturnia ha la possibilità della balneazione lì di fronte, E quindi è necessità di bagnini. E io avendo fatto il brevetto anni fa, l'ho fatto per diversi anni e quindi oltre ad allenarmi mattina e pomeriggio, poi passavo delle ore lì così e devo dire che… Sì, quindi l'hai proprio fatta tu alla… Sì, sì, e poi è molto bello perché essendoci molti soci che in realtà non hanno perfettamente idea di quale valore abbia la gara che tu hai fatto, la medaglia, non medaglia, però si mostrano sempre davvero entusiasti di qualsiasi risultato venga portato a casa e quindi è piacevole perché tornare è sempre bello, visto come viene accolto da tutti quanti, anche soltanto con un caffè offerto, una cosa del genere, è sempre molto bello, c'è un ambiente piacevole. Poi là si mangia anche bene, io sono andato un paio di volte a pranzo, mi pare di sì a pranzo e quindi si mangia anche bene. Allora, siamo in chiusura, già, ringrazio allora Sofia Secoli e Spartaco Barbo per essere stati con noi, buon lavoro. Come si dice, se si può dire, perché gli incitamenti delle volte è meglio non dirli. Non viene in mente una cosa specifica. Buon lavoro, forse è la cosa alla lunga, è la cosa migliore che non impegna nemmeno in gesti apotropaici o altro. Grazie, grazie davvero. Dopo la pubblicità cambiamo argomento. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, gioco un po' in casa, nel senso che la nostra ospite che è la professoressa Elisabetta Madriz dell'Università di Trieste dove insegna pedagogia generale, fa parte del Dipartimento di Studi Umanistici che è quello insomma che frequentavo io quando si chiamava ancora Lettere e Filosofia, non voglio dire che si andava con le tavolette di pietra, però insomma rispetto ad adesso c'è un cambiamento notevole. Non forse altro perché in via dell'università non c'è più niente di universitario, ne discutiamo nel bar vecchia università che finalmente... A parte il bar che... Allora, intanto professoressa grazie per essere venuto a trovarci. Con la professoressa Madriz parleremo soprattutto del corso di laurea in Scienze dell'Educazione, è questo. E poi lei è tra l'altro anche coordinatrice dell'attività di tirocinio. Allora, che cos'è intanto il corso di laurea? Io non ho capito mai... partiamo da questo allora. Sì. Una roba è il Dipartimento. Certo. Il Dipartimento, diciamo, la vecchia, le vecchie facoltà. Sì. Il corso di laurea, che cos'è all'interno di un Dipartimento? Allora, all'interno di un Dipartimento un corso di laurea è uno dei tanti percorsi formativi che uno studente può scegliere sulla base un po' delle sue disposizioni, delle sue preferenze, di quelle che sono un po' gli indicatori anche un po' di carriera o di desiderio che uno intende percorrere nella sua vita. Quindi dentro un Dipartimento ci sono diversi corsi di studio che afferiscono poi a determinati anche ambiti e settori disciplinari. E ancora, per esempio, diciamo, una volta scelto il proprio corso di laurea, mettiamola così, il percorso è, come era ai tempi vecchi, molto, come dire, molto articolato, eccetera, oppure c'è una maggiore libertà di andare, diciamo così, a pescare anche in altre materie di altri corsi di laurea. Certo. Allora, c'è la possibilità di usufruire dei cosiddetti crediti a scelta dello studente. Nel nostro caso parliamo di 18 crediti che vengono scelti, diciamo, su quella che è l'ampia offerta formativa. Ovviamente un indirezzo di pensiero è quello che dice scegli qualche cosa che in qualche modo abbia a che fare con quella che è la tua direzione di senso, di marcia, non esclusivamente professionale, ma possiamo dire culturale in senso generale, questo sicuramente. Quindi, per quel che riguarda noi, 18 crediti, che sono più o meno tre insegnamenti, possono essere scelti sia fra quella che è l'offerta all'interno del proprio dipartimento, ma anche all'interno di quella che è l'offerta generale di tutto l'Ateneo. Ah, questo non... Già che ci siamo, ultima curiosità poi, nel caso una persona dovesse cambiare dipartimento, cosa che a me è successo, per cui insomma non ho nessuna difficoltà a raccontarlo, in genere, mi pare di capire di sì, uno può anche conservare determinati esami già fatti e poi dopo, logicamente, come dire, sceglierà gli altri esami partendo, cioè, nel senso, quelli sono, se ti conviene per quanto concerne il voto, per quanto concerne l'elitieni, se no, no, non è detta così. Allora, diciamo che la matematica si mette un po' in mezzo a questo, quindi c'è anche un discorso di tipo matematico a che affrontiamo così. È lescito per uno studente accorgersi che magari quel percorso di studi non è propriamente come l'aveva immaginato o non rispecchia anche un'ambizione, un'intenzionalità di tipo formativo. Allora, che cosa fa? Può cambiare il corso di studi all'interno dello stesso dipartimento, quindi io, dopo domani, lascio Scienze dell'Educazione, vado a scrivere le mie lettere, va bene, di quello che è il mio patrimonio, cioè di quello che è il curriculum studiorum che io ho guadagnato fino a quel tempo, parte, sarei riconoscibile, quindi assumibile per quello che già è, penso ad esempio i famosi 18 crediti a scelta sicuramente lo saranno, alcuni insegnamenti che in qualche misura possono essere interdisciplinari o non sono tanto caratterizzanti quello specifico corso di laurea, ma riguardano, diciamo così, una cultura di base, un aspetto culturale molto più generale. Poi che cosa posso anche fare? Posso anche direttamente non rimanere nel mio stesso dipartimento, ma scegliere un altro dipartimento, ok? O meglio, un corso di studio che afferisce ad altro dipartimento. Ecco, l'operazione che viene fatta è proprio quella, ecco perché dicevo, c'entra anche la matematica, un riconoscimento di quelli che sono i crediti dello studente, ricordiamo se poi c'è un corso che è a numero programmato, oppure per il quale si debba per forza superare un test d'ingresso, e allora deve essere comunque superato il test d'ingresso, e poi ovviamente quella dotazione, quella carriera che uno studente porta già con sé, può trovare un suo riconoscimento all'interno di quella specificità del corso. E si danno, c'è un certo numero di casi significativo di, chiamiamola ancora come ai tempi miei, cambio di facoltà o no? Allora, diciamo che parlo per le conoscenze più specifiche che ho, che riguardano il mio corso, diciamo che ci sono molte conversioni, conversioni, ovvero scoprire nel tempo, conversioni non è male, ecco, anche dopo aver lavorato, aver iniziato, fatto volontariato, conosciuto il mondo del lavoro, scoprire un po' una certa, io la chiamo così, ma la virgoletto, vocazione di tipo educativo, perché è una parola importante che poi tratteremo parlando di educazione. Questa vocazione ha a che vedere con riconoscersi magari proiettati, indirizzati, predisposti per un certo ambito, e devo dire che negli ultimi anni abbiamo assistito a questo tipo di, magari proprio grazie al fatto che fino al 2017 non era obbligatorio la laurea in scienze dell'educazione per stare all'interno dei servizi, da lì lo è diventato e quindi per molti che magari provenivano da altri percorsi di studio in servizio sociale, piuttosto che in psicologia, cito quelli che insomma sono la casistica più frequente, sceglievano poi ovviamente di fare questo stesso riconoscimento della carriera pregressa e di accedere poi al corso di laurea in scienze dell'educazione per vedere riconosciute ovviamente con un titolo spendibile nel mondo del lavoro, obbligatoriamente, quello che era stato semplicemente o inizialmente una predisposizione, un ambito di volontariato o quanto sia. Ecco, allora, che cos'è esattamente il corso di scienze dell'educazione? Allora, il corso di laurea in scienze dell'educazione prepara gli educatori che si dividono in due grandi ambiti, gli educatori sociopedagogici, cosiddetti, e gli educatori per i servizi alla prima infanzia. Traccio brevemente, tanto per dare un'idea di che cosa siano questi due grandi contesti. Parto dalla prima infanzia perché tra l'altro è il contesto, è l'ambito, è per noi il curriculum scelto dalla maggior parte, direi quasi il 70% dei nostri studenti, e quello che dà adito alla possibilità lavorativa all'interno di contesti che si occupino della fascia 03. Nel 2017, contestualmente alla legge 205 che ha normato la figura dell'educatore sociopedagogico, è uscito anche il decreto 65 che ha istituito il cosiddetto sistema 06, cioè il sistema di educazione e di istruzione per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni. In questo primo indirizzo lo studente trova quel curriculum studiorum, con quella formazione necessaria a lavorare con competenza, con intuizione, con capacità anche prospettiche, ovviamente anche di lavoro autoimprenditoriale, all'interno di questo contesto, quindi dello 0 a 3 anni. Viceversa, l'educatore sociopedagogico è colui che lavora, potremmo dire, in qualsiasi contesto marcatamento educativo, quindi non di insegnamento, quindi non stiamo parlando di scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola media, inferiore e superiore, ma stiamo parlando di tutti quei servizi che offrono un presidio di tipo educativo e che quindi accompagnano lo sviluppo della persona, dei territori, delle comunità, nelle più ampie situazioni attraverso progetti di tipo educativo. Cito alcuni di questi contesti, il contesto della disabilità nei centri di uni, nei centri residenziali, tutta l'area anche dell'accoglienza degli immigrati, tutto il contesto, per esempio, dei doposcuola o della disabilità scolastica che quindi viene supportata e accompagnata dai nostri educatori, ma penso anche alle case di riposo per persone anziani, penso anche alle comunità minori, penso all'educativa domiciliare, territoriale. Sì, è anche un settore, questo perlomeno, che mi pare anche abbastanza in divenire. Assolutamente. Cioè, molto soggetto a, come dire, a innovazione, chiamiamola innovazione, comunque è un settore molto ampio. Assolutamente, ecco, posso citare anche questa esperienza, direi, personale. Nel 1991 mi iscrissi all'Università di Trieste e volevo iscrivermi a pedagogia. Mi trovai automaticamente iscritta a Scienze dell'Educazione, ma piacevolmente poi iscritta a Scienze dell'Educazione per quelli che sono stati i cambiamenti, derivanti ovviamente anche da tutta una, chiamiamola così, ridiscussione epistemologica sul sapere pedagogico di quel tempo. E ciò che un educatore imparava, diciamo, sui banchi dell'università, in una laurea quadrennale, negli anni 90, 93, 94, 95, ha un suo fondamento ancora oggi, ma il mondo dei servizi è completamente cambiato. E le prospettive anche di investimento futuro, come dire, ci insegnano, ci invitano a pensare a tutti quei luoghi che hanno bisogno di educazione. E non semplicemente di una risposta a bisogni assistenziali o esistenziali, ma una risposta di altro tipo, in termini educativi. E non è una distinzione da poco. Non è una distinzione da poco per noi, soprattutto nel momento in cui lavoriamo con questa parte che è più sanitaria, con una parte che è assistenziale, dove ciascuno risponde con un proprio specifico mandato scientifico-culturale a determinati contesti di esercizio di vita della persona. Vediamo se riesco a porre la domanda in... È abbastanza legato alle mutazioni politiche di un paese? O fondamentalmente molto meno di quanto si sarebbe portati a pensare? Allora, in parte sicuramente sì. Non solo quando io studiavo, ma anche i miei primi anni di dottorato di ricerca, eccetera, c'erano servizi educativi che non esistevano. Oggi dobbiamo porci il problema di preparare degli studenti al mondo, per esempio, dell'accoglienza emigrati. Dobbiamo preparare gli studenti al mondo delle carceri, ok? Ma non parlo soltanto di contesti di disagio. No, 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 no. Penso anche a contesti di agio. Penso che, per esempio, nel nostro percorso formativo di tirocinio, da anni sono entrate ormai le nuove tecnologie, e parliamo di come recepire i bisogni, tra virgolette, tecnologici dei nostri educandi, le chiamiamo così, e come ottemperare a questi in senso educativo. Quindi è vero che il panorama politico, culturale, mi permetta di dire, storico, ha portato dei cambiamenti importanti che hanno richiesto anche, non soltanto un'innovazione, ma anche un pensiero di prospettiva. L'educatore deve, noi lo diciamo sempre, la prima cosa che deve fare un educatore al mattino è leggere il giornale. Dopodiché tornerà sicuramente ai suoi testi, alla progettualità, all'intenzionalità, alla rendicontazione, all'osservazione, alla descrizione, alla valutazione, ma deve sapere che cosa sta cambiando nel mondo e quale tipo di impegno educativo può essere speso a riguardo. Questo tipo di corso di laurea, come dire, pone un Ateneo inderogabilmente al centro di quanto... Cioè, molto spesso si tende a sottolineare come un corso di studi umanistici, insomma, sia un po', che ne so, ci vedono ancora come quel dipinto di Antonello da Messina, se non mi sbaglio, ma quello che è allo scrittoio, non gli interessa niente... Più con i libri intorno. Sì, con i libri intorno, eccetera. Posto che non è mai stato così, ma questo tipo di corso abbatte proprio questo pregiudizio, diciamo così, perché significa essere proprio dentro quello che succede e anche dentro quello che succederà. Certo, certo. A tal proposito, un'immagine che do. Attraverso il Covid noi abbiamo capito che cosa è essenziale. E lo sono certamente le professioni di tipo sanitario, ma in tutti gli aspetti, in chi fa statistica, in chi fa prevenzione, in chi agisce nei contesti insieme alle persone, dove la vaccinazione è solo l'ultimo degli atti, importantissimo, ma non è che uno di quelli che derivano dalla ricerca, dall'impegno, basti sapere chi è che ha isolato il virus e l'ha riconosciuto e l'ha messo a punto. Ecco, perché dico questo? Perché quando abbiamo compreso quali sono i... non dico le professionalità senza le quali non si può, ma ammetto la professionalità educativa, sicuramente entro a questo. Allora, lei diceva costringe gli atenei, io dico implica gli atenei, in termini anche di lungimiranza, ma in qualche modo veramente di prospettiva, di innovazione. D'altro lato lo sappiamo, anche l'università è un'impresa e fa delle proiezioni rispetto agli anni futuri, un elemento importantissimo della progettazione dei suoi corsi. Penso a tanti altri corsi che sono stati implementati in questi ultimi anni dall'Ateneo e che vanno proprio a cogliere quello che sta per avvenire. Allora, sicuramente c'è una necessità di stare con i tempi, di prevedere un po' anche i tempi. Non dico tanto di prevenire, ma sicuramente di ritornare a quell'essenzialità che ci fa comunità umana. E la comunità umana non può non essere fatta di crescita e di sviluppo e quindi anche di luoghi di accompagnamento adesso. Allora, in che modo un corso come questo può dare una mano a risolvere eventualmente il problema dello scarso numero di educatori che si registra in regione? Allora, diciamo che la data, l'annualità che citavo prima, il 2017 è stata fondamentale per la professione educativa. Congiuntamente sono usciti due aspetti importantissimi che regolano la nostra professione, quella dell'educatore della prima infanzia e quella dell'operatore dell'educatore socio-pedagogico. Il 2017 è anche costretto, tra virgolette, ma in forma virtuosa, gli Atenei ad occuparsi di tutti coloro che fino lì erano sprovvisti di un titolo di studio adeguato della cosiddetta L19. Che cosa è successo? Che proprio in virtù di questa necessità, di questo bisogno dell'Ateneo di qualificare gli operatori che fossero privi di titoli, ma anche del mondo dei servizi, di prendere questa occasione di qualifica non come una semplice collezione dei famosi 60 CFU, ma come un modo diverso per promuovere la professionalità educativa e in qualche mondo promuovere anche la qualità dei servizi. Noi siamo soliti dire ai nostri educanti che la qualità dei nostri formanti, dei nostri studenti, che la qualità del nostro agire deve arrivare dove? Deve arrivare alla qualità di vita delle persone rispetto a cui si offre, si sta nei servizi educativi, si promuove. Quindi da questo punto di vista, quest'anno orribilis che ha costretto tutti a ripensare, anche gli stessi curricoli, che ha costretto tutti a fare corsi per 300 persone che in aula ogni sabato, un sabato sì e un sabato no, qualificavano la loro professione. Però qual è stato l'aspetto virtuoso, tale da farci parlare, ma insomma da farci notare anche in sede nazionale come il sistema virtuoso del Friuli Venezia Giulia? è stato proprio quello di iniziare a dialogare in termini molto più concreti, mi spiego intorno a un tavolo, quali sono i vostri bisogni, di che cosa secondo voi hanno bisogno i vostri operatori che ancora non sono qualificati. E da lì è iniziato uno scambio che mi piace definire virtuoso e che vedo di ampia prospettiva, che riguarda per esempio anche l'attivazione di un comitato di indirizzo all'interno del nostro percorso di studi, che vede la presenza di una rappresentanza di persone che operano all'interno del mondo dei servizi e insieme alle quali noi ci fermiamo intorno a un tavolo e diciamo bene a che punto siamo oggi, verso dove va non solo il bisogno formativo, ma il bisogno dei territori, perché non posso, lei diceva prima, sfornare delle figure che non siano adeguate rispetto a quelli specifici territori. Forse perché a Milano i bisogni sono anche altri e perché a Caltanissetta ugualmente. E ciò, mi scusi se la interrompo, ciò rende ancora una volta evidente come da qualche tempo a questa parte il legame fra un Ateneo e il territorio sia assolutamente indispensabile. Assolutamente. Tanto che per l'università in questi ultimi anni c'è la terza, il terzo elemento importante dove la didattica e la ricerca che è la terza missione, che è proprio il dialogo con i territori a prescindere dai corsi di laurea, che è comunque un aspetto molto importante, ma è proprio quello di entrare in dialogo con i territori, con le loro esigenze, con le loro istanze, con i loro dubbi. L'università, un'accademia, non è un risolutore di problemi che si manifestano oggi piuttosto che... Anzi, è proprio perché non perde su quei libri, ma investe un sacco di tempo nello studio. È proprio perché conosciamo Rousseau, che domani sapremo lavorare con il bambino con fatica, o con la famiglia che in qualche modo viene percepita come una famiglia disfunzionale. È proprio per questo. È stato difficile, professoressa, questo, diciamo così, io la chiamo anche per questioni morfologiche, la discesa dell'università in città. Parlo di Trieste. Certo. Allora, devo dire che non è stata tanto una discesa, ma è stato un incontro in piano. Un incontro in piano perché, all'ilà del fatto che, insomma, la vecchia facoltà di magistero ha sede, insomma, fin dagli anni 50 nel nostro territorio, quindi i nostri docenti antichi, quelli che hanno messo le basi per quello che anche oggi i miei colleghi ed io stiamo facendo, parla di una storia che non può alimentarsi dei libri, delle teorie, ma parla di una storia che deve necessariamente, come direbbe Popper, inciampare nel problema, assumerlo, coglierne la dimensione e poi individuare progettualità che siano di rilievo in quel senso. Quindi, solo idealmente è stata una discesa, in realtà è sempre un dialogo, quello che possiamo dire, certamente, e che sta diventando un dialogo sempre più verituoso, impegnativo, impegnativo, perché le istanze sono molto diverse, perché il centro è citano nella periferia, perché il centro è citano nel carso, perché la minoranza è un altro tipo di, perché la rotta balcanica, perché le molte iniziative, io penso di volontariato, per esempio, che rispondono a bisogni emergenti, anche di chi attraversa rischi alla vita, attraversando i nostri territori, ha costretto, ma non mi piace la parola costringere, ha in qualche modo imposto a ciascuno di noi, anche nella sua etica, nella sua deontologia professionale, di pensare e di riflettere anche a questi contesti. Questo immagino anche che offre la possibilità anche agli studenti di assumere un ruolo anche propositivo. So che posso immaginare sia difficile, perché ciò comporterebbe anche una sorta di, quasi di rivoluzione copernicana, nel senso, però voglio dire, se questo magari per lo studente di storia dell'arte, si traduce nella possibilità di dialogare con il proprio insegnante su un'opera d'arte, su qualche cosa, e quindi esprimere le proprie idee che possono essere giuste, sbagliate, ma è bello che possa esprimerle con l'insegnante senza tema di essere trattato male o altro. È vero anche che in altri ambiti desumo che il, come dire, che lo scambio di idee sia assolutamente essenziale. Assolutamente. Allora, a tal proposito potrei proprio dirle che il nostro impegno all'interno del corso di studio, peculiarmente magari proprio nelle attività di tirocinio, sviluppare la postura educativa. La postura educativa significa saper prendere una posizione di fronte ai contesti, di fronte ai problemi, di fronte alle urgenze, e saper prendere una posizione che non è semplicemente mi piace questo e credo questo, ma è alla luce del corpus di teoria che conosco qual è l'impegno di tipo formativo educativo nel quale posso stare. Questo è un aspetto estremamente importante che noi coltiviamo attraverso varie tipologie di attività che ci mettono a lavoro con gli altri perché fare da soli è facile. È bello, l'educatore con il bambino fa, se lo prende, o quella persona anziana, accompagnata, no invece bisogna imparare proprio a lavorare in gruppo. Il lavoro educativo di tipo individuale è un lavoro che restituisce poi alla comunità un bene, che è un bene spendibile, che è un bene condiviso. Allora, su questo mi piace citare quello che prima della legge 205, che poi proprio ha normato la figura dell'educatore, era il precedente disegno di legge 2443, che delineava, insomma, questa silhouette che a me piace così definire, dell'educatore, dell'educatore sociopedagogico, come un intellettuale sociale, un intellettuale culturale. Quindi non chi apprende una serie di algoritmi con cui può lavorare, ma quello che è dotato di una cultura che prima di tutto gli consente un pensiero intenzionale, che poi ovviamente svolgerà attraverso una progettualità. Quindi questo richiamo anche alla figura di un educatore che è un operatore culturale, un operatore sociale, un intellettuale, perché nella sua professionalità non c'è semplicemente il faccio delle cose perché ho visto fare così e mi pare si faccia così, ma penso ogni volta che il mio silenzio, il mio intervento, il mio attendere che la persona adulta con disabilità faccia un suo passo, dica un suo no, fa parte di un'etica e vorrei dire proprio di un'antologia professionale che si forma a partire da quest'idea che io devo fare la differenza nel mondo. Ma non in un mondo ideale, nel mio mondo, nel mio contesto, nel mio servizio. Ecco perché lei ricorda che all'inizio di questo nostro piacevole dialogo io utilizzai la parola vocazione, nel senso anglosassone. E in tal senso risulta fondamentale l'attività di tirocinio. Sì. Perché nel momento stesso in cui, mi viene da citare Totò, che è studente, che studia, nel momento stesso, già lavora e quindi può capire, forse in questo caso addirittura meglio di altre realtà, dove lo potrebbe portare il suo approccio al lavoro. Certamente. Più che ancora il lavoro in senso stretto. Certamente. Allora, rispondo così partendo dal fatto che fra le otto competenze chiave dell'Unione Europea c'è una che si chiama autoimprenditorialità. Ok? E non è semplicemente mi faccio da me o mi costruisco il mio alveo di. Ma è proprio imparo a lavorare con una prospettiva dove io stesso mi metto con la mia personalità e con la mia identità. Allora, il luogo del tirocinio che è dislocato dal secondo al terzo anno e non al primo, per esempio. Perché non siamo ancora pronti non solo ad entrare nei servizi, ma noi amiamo a dire quei servizi devono rimanere gli stessi anche quando voi uscite da lei come tirocinio o se possibile anche migliorati anche dal vostro intervento e dal vostro passaggio. Allora, il tirocinio perché è già epistemologicamente un luogo prioritario di revisione della propria teoria? Perché il luogo dove la teoria e la pratica si rimettono insieme o meglio per alcuni sono la prima volta che vediamo, che ci approcciamo, che incontriamo, per altri magari che venivano da quei percorsi di cui dicevamo prima non è la prima volta. mi piace citare anche il fatto che molti di coloro che hanno acquisito il percorso di 60 CFU e la qualifica qualche anno dopo si sono rimessi sui banchi, hanno ricominciato con i colleghi del primo anno a studiare la pedagogia e le scienze dell'educazione. Come a dire in educazione non ci basta mai. Sì, sì, sì. E ecco, chiudo su questo perché è un discorso estremamente interessante ed è anche, piace citarlo, uno dei punti di eccellenza forse del nostro percorso di studi che questo legame con il territorio, noi abbiamo più o meno 300 enti che sono convenzionati con noi e che quindi accolgono i nostri tirocinanti ed è anche questa un'occasione buona per ringraziarli per quanto fanno perché si prendono cura in una situazione di apprendimento situato perché così si chiama di sviluppare quelle competenze che semplicemente nella teoria, nel lavoro di gruppo, nel dialogo simulato, nel role playing non potrebbe prendere questa forma che poi dovrà diventare una competenza. Quindi questo tempo che è un tempo del cosiddetto tirocinio indiretto che si svolge il secondo anno con degli incontri preparatori, con dei testimoni esperti, con dei lavori di gruppo, con degli ampi lavori anche di riflessività personale, individuale trova poi al terzo anno il suo sbocco direttamente in un'esperienza che si va a fare nei servizi. Professoressa, io la ringrazio moltissimo per essere stata nostra ospite. La professoressa Madriz è docente di pedagogia generale all'Università di Trieste ed è anche coordinatrice del corso di laurea in scienza dell'educazione delle attività di tirocinio all'interno del corso di laurea in scienza dell'educazione la sede del corso è a Portoguaro della sede di staccata dell'Università. Grazie professoressa buon lavoro e buona continuazione. Noi ci vediamo domani come sempre alle ore 18. questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste Grazie a tutti